Ciao amici, Massimiliano per The Geekers e Realme 8 Pro qui alle prove solite di videocamere e fotocamere 1080p dalla 16 megapixel anteriore con effetto bokeh, una novità questa, la registrazione video in questo modo con la presentazione e i soliti test a cui sottopongo i telefoni dopo qualche settimana di utilizzo prima della recensione di conseguenza andiamo anche con la registrazione a 1080p dove è supportata la fotocamera a grande angolare e quella in 4K dove invece questa fotocamera non è supportata e in più con l'ultrastedi attivato quindi fra un attimo cominciamo, Realme 8 Pro su TheGeekers.it con Massimiliano Ed eccoci qua amici con Realme 8 Pro e la registrazione a 1080p a 30 frame al secondo perché questa è l'unica modalità nella quale la lente ultra grandangolare da 8 megapixel è supportata perché altrimenti a 60 frame per secondo e in 4K tale lente viene disattivata vi ricordo le 4 lenti principali del Realme 8 Pro 108 megapixel, 8 megapixel ultra grandangolare e poi 2 megapixel macro e 2 megapixel per l'effetto profondità questa è la ripresa in grandangolare 1080p a 30 frame al secondo qui siamo invece con la 1080p a 60 frame al secondo che è anche la modalità con la quale viene attivata la modalità ultra steady quindi la stabilizzazione che può essere declinata anche in un ulteriore ultra steady max per cui mi muovo anche per questo tanto ormai il panorama lo conoscete andiamo a vedere, pardon il dito, la collina laggiù e la torre dell'acqua in questo modo vedremo poi come è agito muovendomi la stabilizzazione e questo invece infine è la registrazione a 4K a soli 30 frame al secondo andiamo a vedere come funziona anche lo zoom qui siamo a 2x e qui siamo a 5x sulla nostra collina vediamo se riusciamo ad avvicinarci ancora un po' 10x, cerchiamo di star fermi e poi di tornare all'ingrandimento normale ce l'ho pessimamente nuvolo se mi passate il termine con questa registrazione in 4K andiamo ancora a vedere l'ingrandimento fino a 10x ovviamente in questa funzione 4K non funziona la stabilizzazione e non funziona neanche la lente ultra grandangolare come abbiamo detto mi sposto di nuovo, vi faccio vedere un pezzo di cielo pessima giornata se abbiamo tornati in pieno inverno Realme 8 Pro fotocamera registrazione in 4K a 30 frame al secondo su TheGeekers.it